sulle mani e comincia il movimento vai qui al presidente ehi ma le vostre mani dove sono? e il secondo là e allora ragazzi lo facciamo ancora più forte? E più vedo le mani, così va veloce Di dondo E mentre la la sono lì, noi siamo qui A 3 A 3 A 3